Chi è che non conosce la Nutella, il Kinder Sorpresa o i Ferrero Rocher? Hai capito di cosa parliamo oggi? Ovviamente della Ferrero! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Teacher Stefano Show con la nostra nuova serie Grandi Aziende Italiane in cui parleremo di alcune aziende italiane che hanno avuto molto successo in Italia e all'estero e che sicuramente tutti conoscono Ti ricordo che questa puntata è anche video quindi puoi ascoltarla sulla tua piattaforma di podcast preferita ma anche guardarla su YouTube Come sempre però puoi scaricare la trascrizione parola per parola di questo episodio con la spiegazione di alcune parole ed espressioni più difficili Basta cliccare nel link in descrizione o puoi visitare il mio sito www.teacherstefano.com Adesso iniziamo con la puntata di oggi Parliamo della Ferrero! La storia della Ferrero è una storia di successo che vede una tenace famiglia piemontese partire da un piccolo laboratorio in un paesino piemontese altrettanto piccolo Alba in provincia di Cuneo per diventare una multinazionale rinomata a livello mondiale Oggi la Ferrero è tra i primi produttori di cioccolato e prodotti dolciari al mondo Ma per capire meglio la storia di Ferrero dobbiamo tornare ai lontani anni 40 per scoprire le origini dell'azienda Ecco che voglio presentarti due persone molto importanti Pietro Ferrero e sua moglie Piera titolari di una pasticceria Pietro e Piera quindi aprono un piccolo laboratorio di dolci in cui danno vita alle prime creazioni che anni dopo diventeranno dei prodotti simbolo dell'azienda Tra questi prodotti c'era per esempio una crema a base di cacao e nocciole chiamata pasta gianduia che vendevano in panetti da affettare Questa pasta era praticamente una crema pensata per essere spalmata Ora ricordiamoci che siamo in periodo di guerra e non è sempre facile trovare gli ingredienti Ma per fortuna il territorio piemontese è ricco di nocciole e le nocciole hanno un ottimo sapore se combinate con il cacao oltre a essere più economiche Pietro e Piera quindi hanno la grande intuizione di sfruttarle creando un prodotto che in breve tempo diventa molto popolare a livello locale Però il successo della pasta gianduia non era solo dovuto al fatto che era effettivamente buona da mangiare ma anche a un'importante azione di marketing Infatti per promuovere la pasta gianduia anche fuori da Alba e dal Piemonte Giovanni che era il fratello minore di Pietro usò 12 musoni una bellissima macchina Fiat per trasportare e pubblicizzare il prodotto Dato che l'azione di marketing era stata un grande successo Giovanni Ferrero diventa responsabile del lato commerciale dell'azienda e nel dopoguerra la famiglia Ferrero comincia ad aprire diverse fabbriche e vari uffici non solo nel Piemonte ma anche all'estero Il successo era tantissimo e il 14 maggio 1946 nasce ufficialmente l'industria Ferrero All'inizio era un'impresa a conduzione familiare in cui ogni membro rivestiva un ruolo specifico e nella quale si manteneva e si mantiene tuttora un ambiente tranquillo e accogliente anche per i dipendenti Ma la pasta gianduia che ha portato tanta fortuna ai Ferrero in passato era destinata ad evolversi in qualcosa che oggi è sulla bocca e nella cucina di tutti Nel 1964 infatti Michele Ferrero e i genitori Pietro e Piera rinnovano la ricetta e la rilanciano sul mercato come Nutella la crema spalmabile che oggi conosciamo benissimo tutti Michele prende il controllo dell'azienda nel 1957 L'azienda Ferrero si espande ancora di più in Belgio, nei Paesi Bassi, in Austria, in Svizzera, in Irlanda, nel Regno Unito e in Spagna Propone nuovi prodotti e sorprende il pubblico con divertenti iniziative come il treno dei bimbi un autocarro camuffato da vecchia locomotiva Il treno dei bimbi attraversava e portava gioia nelle città italiane durante fiere, manifestazioni e nel periodo di carnevale Dal treno venivano distribuiti cioccolatini, caramelle e matite per tutti i bambini che si accalcavano intorno Un'idea fantastica, non credi? Nei decenni successivi Ferrero diventa globale e apre uffici e stabilimenti in Nord e Sud America nel sud-est asiatico, nell'est Europa, in Africa, in Australia e in tempi più recenti in Turchia, in Messico e in Cina Ferrero è infatti una delle prime aziende italiane a diventare un vero e proprio gruppo internazionale Ma quali sono i prodotti più famosi dell'azienda? Beh, nel corso degli anni, oltre alla Nutella Ferrero ha creato tantissimi altri prodotti Prima di tutto menzioniamo tutta la linea Kinder destinata ai bambini e non Eh sì, la Kinder è una marca italiana, non tedesca Tra i prodotti della Kinder abbiamo il Kinder cioccolato lanciato nel 1968 Una barretta di crema di latte e cioccolato snack sfizioso e adatto a ogni momento della giornata Quanti ne ho mangiati da piccolo, mamma mia! E adesso mi mangio un pezzettino, va? Mmm, troppo buono! Poi abbiamo il Kinder sorpresa il famoso ovetto di cioccolato al latte con dentro la sorpresa che ha segnato l'infanzia di intere generazioni Io facevo la collezione di tutte le sorprese quando ero un bambino e mangiavo un Kinder sorpresa al giorno Altri prodotti squisiti sono il Kinder Bueno il Kinder Cereali o anche altre merendine come il panecioc che io ho sempre a casa Tornando a prodotti esclusivamente Ferrero abbiamo il Ferrero Rocher lanciato nel 1982 È davvero delizioso con il suo cuore di nocciola e la morbida crema racchiusi in un guscio di biscotto e avvolti da cioccolato e granella di nocciola Ho un altro prodotto che amo è il buon Pocket Coffee un cioccolatino con un cuore di caffè liquido proprio liquido Infatti devi mangiarlo in un solo boccone altrimenti ti sbrodoli tutto Ciò che spesso viene trascurato e ignorato sulla Ferrero è la grande attenzione che l'azienda riserva ai propri dipendenti Uno degli esempi più significativi del trattamento eccezionale riservato ai dipendenti da parte di Ferrero è il programma Open Factory che consente ai dipendenti di visitare le fabbriche dell'azienda in tutto il mondo comprese quelle al di fuori del proprio paese di lavoro Questo programma non solo dà ai dipendenti l'opportunità di vedere come i loro prodotti preferiti vengono prodotti ma rafforza anche il senso di appartenenza all'azienda Inoltre Ferrero offre ai dipendenti un pacchetto di benefit molto generoso che include assicurazione sanitaria privata congedo parentale retribuito e un'ampia gamma di programmi di formazione e sviluppo professionale Ma ciò che rende il trattamento dei dipendenti di Ferrero davvero speciale è l'attenzione che l'azienda riserva alla salute e al benessere dei propri dipendenti Ferrero ha lanciato diversi programmi per promuovere la salute e il benessere dei dipendenti come ad esempio la campagna Settimana della Salute e Sicurezza che offre ai dipendenti consigli sulla salute e sulla sicurezza sul posto di lavoro E oggi com'è Ferrero? Nel 1997 i due figli di Michele, Pietro e Giovanni, sono diventati co-CEO di Ferrero Giovanni si occupava della parte creativa e strategica mentre il fratello maggiore Pietro, scomparso tragicamente nel 2011, si dedicava alla gestione operativa Giovanni diventò poi presidente esecutivo dell'azienda dopo la morte del padre Il gruppo Ferrero oggi ha sede in Lussemburgo, comprende circa 40 società commerciali ha 31 stabilimenti, circa 40.000 dipendenti in tutto il mondo e commercializza in 170 paesi Giovanni Ferrero insieme a Lapo Civiletti, che è il primo CEO a non condividere legami familiari con i Ferrero continua a dirigere l'azienda con successo guidato sempre dalla stessa ispirazione e dalla stessa motivazione che aveva mosso Pietro, Giovanni e Piera negli anni 40 in quel piccolo laboratorio di Alba Oggi, come ieri, l'azienda Ferrero è una struttura basata sulla tradizione e su solidi valori familiari Ed ecco delle curiosità che forse non sapete sulla Ferrero Da tutto questo successo ne derivano anche tanti soldi Infatti nel 2014, secondo la classifica stilata dalla rivista Forbes Michele Ferrero si trovava al primo posto tra gli uomini più ricchi d'Italia e al trentesimo nella classifica mondiale I Ferrero sono una famiglia molto riservata e stanno molto attenti a proteggersi dallo spionaggio industriale La società Ferrero non ha mai tenuto una conferenza stampa e non consente visite ai media nei suoi stabilimenti I prodotti Ferrero sono realizzati con macchine progettate da un ufficio tecnico interno E gli impianti sono protetti da un livello di sicurezza tale da essere stato paragonato addirittura a quello della NASA Incredibile no? Non sia mai che la ricetta originale della Nutella venga fuori Benissimo, abbiamo finito con la puntata di oggi Che ne pensi? Ti è piaciuta? Fammelo sapere qui sotto nei commenti se ci stai guardando su YouTube O mandami un messaggio su Instagram, Teacher Stefano, se ci stai ascoltando Ti ricordo anche che se hai perso la prima puntata di grandi aziende italiane Puoi guardarla su YouTube o ascoltarla sulla tua piattaforma di podcast preferita Ho parlato della Barilla, la famosissima azienda di pasta E quale dovrebbe essere la prossima azienda? Fammelo sapere e non dimenticare di scaricare la trascrizione di questo episodio Con anche la spiegazione di alcune parole utili Cliccando sul link nella descrizione O visitando il mio sito www.teacherstefano.com Noi ci sentiamo presto, ciao!